Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Per attirare i nostri sguardi, non splendore, per provare in lui il letto, disprezzata e rietto dai uomini. È stata una via Crucis molto partecipata a quella che ieri sera, partita da Piazza Sacro Cuore, e poi giunta a Piazza Salotto. I pescaresi hanno risposto all'invito dell'Arcivescovo di Pescara Penne, Tommaso Valentinetti, un momento religioso che ha interessato solo il centro cittadino, con la via Crucis che ha sostituito, non senza polemiche, soprattutto da parte dei cittadini di Porta Nuova, la tradizionale processione del Venerdì Santo, che da Piazza Sacro Cuore arrivava alla Cattedrale di San Cetteo. Ha voluto essere anche un invito a riflettere sul particolare momento che si sta vivendo. Un momento meditativo e di preghiera, un modo anche per seguire tutte le stazioni con maggiore riflessione, anche grazie a un impianto sonoro che ha permesso a tutti di ascoltare i vari momenti della funzione. Una via Crucis molto sentita fino a Piazza Salotto, dove in tanti hanno seguito, e è stata anche molto seguita numericamente. Sì, avevamo fatto questa proposta alla cittadinanza, alla diocesi, e siamo contenti perché il popolo di Dio ha risposto e soprattutto ha vissuto un momento di grande preghiera e di grande fede, perché questo era l'obiettivo fondamentale. Per cui ringrazio tutti della partecipazione, gli organizzatori che hanno collaborato con me, ma soprattutto il popolo di Dio che ha voluto sperimentare questa forma, che non è nuova perché la via Crucis è sempre stata presente nella vita della Chiesa, ma che in qualche modo ha integrato la tradizionale processione. La processione non c'è stata, però non è detto che poi non possa anche tornare. Sicuramente faremo una riflessione molto attenta su questa vicenda di ieri sera e l'anno prossimo proporremo un cammino serio di fede e di preghiera che possa rispettare da una parte la tradizione e da una parte anche questo desiderio che credo la gente abbia. Una Pasqua diversa da quella degli altri anni e un po' più serena? Un po' più serena perché siamo usciti fare pare dalla pandemia, ma non siamo molto sereni per tutte le altre notizie che abbiamo provenienti dal mondo intero. Un terremoto di 50.000 morti, una guerra ancora in atto, una crisi economica che si sta riaffacciando fortemente alle porte delle famiglie e sicuramente sono preoccupazioni. Ma noi abbiamo il compito di ridare coraggio, far forza a tutti perché vivano nella fede, perché vivano nella speranza, perché la risurrezione di Cristo è soprattutto una speranza in un impegno di vita serio oggi qui, pensando a un amore dato, ma un amore che ritroveremo sicuramente nel momento in cui la risurrezione ci abbraccerà. Auguri di buona Pasqua.